Caso Pierina Paganelli, vicina di casa rompe il silenzio e svela la verità scioccante. Benvenuti al centro di notizie e gossip. Prima di immergervi nelle novità del giorno, un mi piace e la vostra iscrizione al canale sono per noi segni immensi di apprezzamento. Grazie di cuore. Ora, lascia che ti aggiorni sullo stato attuale delle indagini riguardo all'omicidio di Pierina Paganelli, avvenuto il 3 ottobre scorso nei cupi sotterranei di Via del Ciclamino, a Rimini. Al momento, il registro degli indagati è sorprendentemente vuoto, ma gli investigatori stanno tenendo d'occhio quattro individui chiave. Questi quattro individui sono, Loris e sua sorella Manuela Bianchi, quest'ultima moglie di Giuliano, figlio di Pierina, e Valeria Bartolucci e Luis, una coppia di coniugi che condivide lo stesso pianerottolo sia con la vittima sia con Manuela. La scorsa giornata, Valeria è stata chiamata a testimoniare in un interrogatorio che è durato ben quattro ore presso la questura di Rimini. Questo è stato il secondo interrogatorio per la donna. Le dettagliate dinamiche dell'incontro rimangono top secret, ma sembra che abbiano insistito con domande sulla relazione che suo marito potrebbe aver avuto con Manuela. Una curiosità, al suo ritorno a casa, Valeria è stata scortata da un agente di polizia al quale ha consegnato volontariamente due paia di scarpe appartenenti a Luis. In una recente intervista trasmessa ieri su Quarto Grado, Valeria ha riaffermato con forza la sua innocenza, dichiarando, sono completamente estranea a questa vicenda e sono innocente. Direi lo stesso per quanto riguarda Luis. Il fatto che abbia avuto una relazione extraconiugale non lo rende un uomo capace di commettere un crimine così atroce. Lo conosco bene, e so che non avrebbe mai compiuto un gesto del genere, ha sottolineato, ribadendo anche l'alibi per la serata del 3 ottobre. La coppia era, infatti, a casa, dopo aver cenato e visto un film su Netflix. Valeria si è ritirata in camera da letto, mentre Luis si è comodamente sdraiato sul divano. Il mistero che avvolge questo caso continua a svelarsi lentamente, ma con ogni dettaglio emerge una nuova sfaccettatura di questa intricata storia.